Buongiorno a tutti sono Orlando Annalisa marketing manager della ditta Screenint e a questa fiera presentiamo un prodotto nuovo che è il nostro nuovo schermo a cornice Leonardo fornito come standard con questa finitura questa diciamo sottilissima cornice con la finitura in velluto che può essere fornita anche in colorazioni diverse con RAL diversi. Su questo schermo a cornice montiamo una vasta selezione di tele tra le quali c'è anche una nuova tela che abbiamo chiamato HD Performer questa tela è una tela specifica per gli schermi a cornice con un retro nero e una bobina alta 320 cm che quindi ci permette di riuscire a produrre degli schermi a cornice con altezza massima senza saldatura di circa 3 metri. Come altre caratteristiche la tela è una tela con guadagno 1.2 e con il retro nero schermante per le luci retrostanti. Un'altra tela molto importante a cui vogliamo dare effettivamente una particolare enfasi è la nostra tela Oyster che è una tela multilayer che all'interno ha uno strato diciamo di micro specchi i quali fanno sì che la luce ambientale venga rigettata e venga quindi riflessa soltanto la luce da parte del proiettore mantenendo un contrasto elevatissimo dell'immagine. Questa è una tela che può essere montata solo su schermi a cornice e con un'altezza diciamo di 100 massimo di 150 cm. Ovviamente nell'ambito della fiera presentiamo tutto il nostro range di prodotti inclusi anche gli elevatori motorizzati che sono un prodotto assolutamente importante nella nostra gamma. Elevatori che vanno da una portata di 15 a 30 a anche 70 kg di peso con delle varianti di discesa del pantografo che possono andare dai 40 cm fino anche ai 5 metri per gli elevatori di portata 70 kg.